Weee! Non fare il magazzino muffito! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi finalmente il tempo è finito! Fra poche ore sarà disponibile la patch 10.20, l'aggiornamento della patch 10.20 che vedrà al suo interno un bel po' di novità in game e ci auguriamo anche un po' di novità per quanto riguarda i codici sorgenti. Sappiamo ragazzi che non sarà necessario il downtime dei server, non sarà necessario probabilmente scaricare niente di troppo pesante ma in realtà sappiamo che verrà introdotta la nuova Zap Trap, la trappola elettrica che ha delle caratteristiche veramente molto molto interessanti. Parleremo ovviamente anche di questo e vi farò vedere un gameplay esclusivo, tanta tanta roba e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati anche sul dietro le quinte di Fortnite. Siamo già subito alla domanda perché tanto qua non c'è tempo da perdere quindi ve la faccio immediatamente ma te sei contento del ritorno del cubo oppure no? E già ragazzi perché con l'aggiornamento che arriverà fra poche ore tornerà finalmente il cubo. Io dico finalmente perché ci sono affezionato, l'ho vissuta tutta la season con il cubo. Sono sicuro che anche molti di voi l'avranno vissuta. A me personalmente piace l'idea che il cubo torni anche se per poco, anche se temporaneamente, ma rivederlo sai ti porta un pochettino indietro con i ricordi. Quindi ditemi, dimmi se tu sei favorevole oppure no al ritorno del cubo qua sotto nei commenti. Prima di iniziare volevo però ringraziare tutti i ragazzi che utilizzano il codice creator Xyuderone quando scioppazzate di prepotenza nello shop. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi in tantissimi al canale e soprattutto l'ho portato in vacanza. Attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. E andiamo subito con il primo argomento ragazzi, il tweet ufficiale di Fortnite. The version 10.20 content update arrives tomorrow. In realtà il tweet è di ieri quindi è riferito a oggi. La cosa interessante è ovviamente la descrizione che dice See what's new when patch notes are available. What's ragazzi ovviamente è una parola come vedete evidenziata e richiama il suono dell'elettricità. Richiama ovviamente la zap trap. La vedremo fra poco nel dettaglio anche con un gameplay ma sappiamo che con questa patch arriverà ragazzi ovviamente anche l'isola. Qua siamo nella nostra lande letali dove il Rift Beacon si è attivato ieri nella metà mattina e oggi probabilmente scomparirà. Sappiamo anche, ve lo faccio vedere intanto in un video, sappiamo anche ragazzi che mentre il Rift Beacon si è attivato c'è già un nuovo Rift Beacon che è in costruzione nel magazzino. Quindi la domanda giustamente che ci facciamo è Emo quale sarà la prossima city che verrà sostituita oppure ci sarà qualche integrazione in qualche altre city? Sì perché in realtà ragazzi l'Ande non viene tolta, viene semplicemente aggiunta all'isola fluttuante che adesso vi faccio rivedere. Questo è invece uno spezzone dei nuovi pezzi del Rift Beacon in costruzione. Ogni volta che un Rift si attiva ai magazzini in realtà appare tutti i nuovi pezzi, le nuove componenti del nuovo Rift. Ma come vi anticipavo, noi sappiamo in realtà che con l'aggiornamento arriverà anche l'isola. Questa che state vedendo è un'immagine che richiama, che va a riprendere quello che vedremo e sarà una schermata di caricamento che ci verrà regalata con le sfide. Sì ragazzi perché arriverà anche un set di sfide che si chiamerà The Return, quindi il ritorno e come vedete un bel po' di punti esperienza, stelline extra per il pass battaglia e come ricompensa anche una schermata di caricamento per mantenere per il futuro il ricordo di questo evento. Non sappiamo nel dettaglio le sfide, o meglio le sappiamo ma non ce le ho qua disponibili, ma non sono niente di esagerato, quindi non dovete preoccuparvi e ovviamente se ci dovesse essere qualcosa di particolare non esiterò a farvi vedere le soluzioni. Siamo anche ovviamente arrivati ragazzi alla sezione news dove si vede nelle notizie appunto la trappola folgorante. Zapper Trap in italiano è stato tradotto come trappola folgorante, pericolo, alta tensione in trappola e fulmina, molto semplicemente la descrizione è molto semplice, ma sappiamo che questa trappola ha delle caratteristiche veramente molto molto interessanti. Qui siamo direttamente nei file di gioco relativi a questa nuova trappola e sappiamo che sarà di rarità epica. Sappiamo che se ne potranno tenere, penso che lo stack sia di due, ma non sono sicuro ragazzi, non sono sicuro, forse era un leaks vecchio che non andava bene, quindi sappiamo che la verità è epica, ma sappiamo che questa trappola fa un danno di 50 ogni due secondi ed è una cosa incredibile se pensate che in meno di 10 secondi può fulminare letteralmente un player full shield, quindi davvero tanta tanta roba, ma la particolarità più grande, il punto di dibattito che c'è in queste ore nei forum su Reddit relativi a Fortnite è proprio qua, relativo a queste cinque righe di codice, più precisamente relativo alla prima riga di codice che dice Can the place don't have any buildings true? Cosa vuol dire? Sembrerebbe che il true vuol dire vero, sembrerebbe che questa trappola possa essere piazzata anche sulle strutture nemiche, il che vorrebbe dire che se voi immaginate un 1v1 che state facendo magari con tanto di build non è necessario essere veloce a ripiazzargli il muro, cioè magari voi lo distruggete e al posto che rifargli il muro gli mettete la trappola folgorante, così lo obbligate ad uscire. È una cosa molto interessante che effettivamente ci lascia un pochettino perplessi perché non esiste niente che possa essere attaccato a una struttura nemica e se veramente fosse così sarebbe la prima in assoluto. Ma vi avevo detto ragazzi all'inizio del video che vi avrei fatto vedere un gameplay della trappola, un gameplay relativo alla trappola in game e abbiamo l'effetto che verrà applicato qualora la trappola scattasse. Voi non fate caso ragazzi ovviamente all'omino, non fate caso al fatto che stia scendendo col paracadute, ma fra pochi secondi vi faccio vedere, eccolo qua ragazzi, questo sarà l'effetto e questo è preso letteralmente dai file di gioco, veramente tanta tanta roba, come vedete verrà fulgurato letteralmente il nostro avversario e speriamo che quindi non sia troppo OP un po' come lo è stato con un sacco di cose che hanno inserito in questa season numero 10. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento ragazzi, siamo invece su Save the World. Per chi ha seguito la pagina mia Instagram Xudar dove pubblico ogni tanto delle cose magari in tempo reale che poi vado a riprendere come oggi nei video delle news, questo è un piccone molto particolare che verrà assegnato ai giocatori di Save the World. La domanda che ci facciamo è questo piccone siccome nella season 10 i piccone di Save the World vengono condivisi con l'armadietto di Battle Royale potrà essere anche disponibile per noi? bella domanda il piccone è veramente fighissimo ragazzi sebbene sia semplicemente una mano vi posso garantire che è grandissimo è enorme e mi sembra che qualche ragazzo mi aveva risposto su Instagram che lo potrete ottenere battendo il boss della tempesta ora io non gioco a salva al mondo quindi correggetemi se per caso sbaglio però è veramente molto molto figo come piccone e speriamo se qualcuno poi lo ottiene in Battle Royale me lo dica che sarà un buon motivo sicuramente per giocare qualche partita a Save the World e chiudiamo con il video di oggi ragazzi parlando di altre cose aggiunte o meglio che verranno aggiunte nella patch 10.20 siamo invece nella modalità creativa e verranno aggiunte le prigioni tanta tanta roba l'illaboratorio della latrina la galleria delle prigioni che in realtà sono i pezzi che vanno a formare le prigioni e la galleria del laboratorio della latrina adesso non sappiamo ovviamente se le prigioni e se il laboratorio torneranno anche in Battle Royale ma se volete se siete nostalgici riutilizzarli o rivivere queste location storiche di Fortnite beh allora nella modalità creativa potrete sicuramente farlo con questi nuovi pezzi in aggiunta io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver guardato anche oggi il video delle news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi ci vediamo alle 8 in live ciao